Ehi, la polizia del Quinza ha avvistato quel furgone rosso rubato. Dove? Fuori da una proprietà industriale abbandonata. Lei è lì. Non lo sappiamo, ma l'unità tattica sta andando. Vedo qualcosa. Terzo piano. È lei? Soggetto identificato. Terzo piano. Angolo nord-est. In quanti sono? Non lo so, non abbiamo visuale. Resta dietro. Se c'è Tyson, sparerà a te per primo. Pesco, aspetta! Stai indietro! È una trappola! Pari battle! Spack it! No! Kate, mi dispiace tanto. Mi dispiace, Kate. Mi dispiace tanto. Non è lei! Non è lei! Chi era? Un ex tossicodipendente, proprio come le altre. Pare fosse scomparsa da una settimana. Hanno trovato un registratore sotto la sedia. In questo modo ci ha fatto credere che fosse Beckett. E l'arma? Puntata verso la vittima, innescata a distanza. Voleva che guardassimo. Voleva che guardassimo. Pensi che sia ancora viva? È ancora viva? Come lo sai? Perché non ha ancora finito con me. Perché non ha ancora finito con me.